Oggi parliamo di Notebook LM, di Google, che è un'intelligenza artificiale molto particolare e molto potente. La prima buona notizia è che è gratuita, la potete utilizzare tutti da subito, c'è il link in descrizione. Comunque basta cercare Notebook LM e vi salta fuori immediatamente. Vi farò vedere un vero e proprio tutorial su come utilizzarla e come utilizzarla al meglio. È stata aggiornata nelle ultime settimane e giorni e ha delle funzionalità davvero potentissime e in sostanza è un'intelligenza artificiale che fa riferimento solo al materiale che gli caricate, che possono essere documenti, testi, ma anche siti web, ma anche, e questa è una delle novità degli ultimi giorni, video di YouTube che lui va a mettere nelle fonti. Lì si prende solo dalle fonti che gli avete caricato, quindi non c'è il rischio di andare su altre cose. Quindi è molto molto centrata. Poi c'è la possibilità di ottenere addirittura un podcast vero e proprio e vedremo come, dove ci sono due voci virtuali che si parlano fra loro ma sono assolutamente veritiere e molto molto interessanti. C'è un limite perché questa funzionalità è un pochino tutto Notebook LM, per ora è solo in inglese, ma vi insegnerò poi a tradurlo in tempo reale utilizzando un'altra intelligenza artificiale, per esempio Gemini o qualsiasi altra come c'è GPT e quant'altro. Quindi nulla di davvero difficile e complicato. Tra l'altro è sì disponibile solo in inglese, ma legge e capisce anche i documenti, le pagine web in italiano. Il problema è che per ora interagisce solo in inglese. Quindi andiamo con ordine, vediamo la pagina di Notebook LM che ha questo indirizzo. Atterrate qua, ci sono i vostri quaderni, le vostre raccolte di materiale e vedete che ne ho già preparata una per voi dedicata al metodo ProfStay dove ho caricato un po' di materiale su quello che è il mio metodo di trading, per chi è interessato a trading e investimenti ma è un mero esempio, potreste caricare qualsiasi tema, argomento e materiale. Ma prima vi faccio vedere come si caricano appunto le fonti di questa intelligenza artificiale, perché lo ripeto, solo quello che mettete qui dentro verrà preso come riferimento. Quindi potete caricare le fonti e o andare a mettere direttamente da Google Drive, quindi un documento delle slide, un link da un sito e eccolo qui, anche un link di YouTube. Quindi vi anticipo, questo Notebook LM ti permette anche di fare una sintesi dei video di YouTube che prima facevamo con altri strumenti. Quando andate a caricare delle fonti, potete appunto aggiungere queste diverse fonti, tra l'altro anche incollare del testo direttamente, e avete un limite di 50 fonti, che però possono essere più o meno grandi, quindi avete tantissimo che potete mettere. Tra i file vedete che ci sono i PDF, testi, markdown, che sarebbe una specie di formato per i linguaggi di programmazione, e anche degli audio, quindi un MP3 o qualsiasi altra cosa. Quindi voi caricate il vostro materiale e vi ritrovate in una situazione simile, dove avete il materiale caricato. Io per esempio ho caricato il libro, ho caricato il sito, il blog Profstee, e un corso che avevo su YouTube abbastanza a lungo, sempre sulla metodologia di trading Profstee. Ecco, come vedete, una volta caricato tutto, se vado qui su Notebook Guide, mi dà tutta un insieme di cose automatiche che genera a seconda dei contenuti. Quindi mi fa già lui, in realtà, una piccola sintesi e poi delle domande legate a quello che avete caricato. Ma la cosa più bella è questa. C'è una overview audio, che è questo famoso podcast fra due persone, ma è davvero molto, molto realista. Se schiacciate l'odd, potete di base andarvi ad ascoltare una sintesi fatta a voce, appunto, di tutte le fonti che avete caricato. Ok, qualcosa di incredibile, perché vedete la veridicità di queste voci e del dialogo, ok, per ora è soltanto in inglese, ma pensate al potere e alla potenza di questo strumento, che tra l'altro Google ha rilasciato gratuitamente, disponibile per tutti, di caricare materiale e poi ascoltare una sintesi in forma di podcast di tutto il materiale che avete caricato. E poi, come dicevo, la grande potenza sta nel fatto che voi potete interagire facendo domande basate sul materiale o andando a fare ulteriore sintesi e quant'altro. E le domande le potete fare anche in italiano, è solo l'output che è in inglese. Quindi, io posso dirgli, voglio sintetizzare i tre principi chiave più importanti del metodo ProfState, o di qualsiasi cosa. In questo caso, appunto, avendo caricato materiale sul metodo ProfState, io gli dico, mi servono le tre cose chiave, oppure posso fare e dover fare una lezione, mi serve un riassunto su tutto il materiale, oppure posso evidenziare una parte e digli, ok, adesso concentrati solo sulla parte psicologica del trading, comportamentale, oppure sul money management e quant'altro. Quindi, ah, è ricavato un estratto davvero molto ben fatto e poi, volendo, qui ci sono le fonti, cioè lui va a dirti esattamente da dove ha preso quella cosa. E a questo punto, di nuovo, tu puoi andare a copiare tutto, molto semplicemente, anche così, semplicemente col tastino, e in un altro servizio di intelligenza artificiale andare a tradurre in italiano. Quindi, e in sintesi, l'invito è quello di provare subito a utilizzare Notebook LM, è facile, è gratuito, provate a caricare un po' di cose sulle quali dovete magari studiare, dovete fare un approfondimento, dovete presentare una relazione magari a livello lavorativo e quant'altro, e da lì, dialogando con un'intelligenza artificiale che unicamente fa riferimento alle fonti che gli avete inserito, potete trarne sintesi e quant'altro. È davvero fatta molto, molto, molto bene. Non sottovalutate la possibilità di inserire anche video di YouTube tra le diverse fonti, anche audio, e quindi usatela anche per andare a sintetizzare video, riassumerli e quant'altro. Avete poi quella possibilità di avere ed ascoltare un podcast basato sulle fonti e il materiale che gli avete fornito. È fatto molto bene, molto realistico, le due voci sono incredibilmente veritiere. Per chi sa l'inglese può essere già un modo per ascoltare la sintesi di quello che dovete studiare, magari andando a fare uno sport, una passeggiata, andando a lavoro, tornando, andando a scuola o quello che è, e quindi un elemento in più. Ripeto, per ora disponibile sono in inglese. Avete visto che io ho dialogato perfettamente in italiano con Notebook LM? L'unica cosa, gli output sono in inglese, quindi poi li prendete e li andate a tradurre. Per oggi è tutto, ma torniamo presto con altri tutorial e video dedicati all'intelligenza artificiale. Fatemi sapere cosa ne pensate e quali sono stati i vostri utilizzi, e ci vediamo presto.